Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo a Fortnite con questo nuovo aggiornamento che è uscito oggi quindi se hai avuto problemi tipo a installare questo nuovo aggiornamento come puoi vedere dopo io che ho scaricato l'aggiornamento ho provato così ad avviare Fortnite dice avvio non riuscito ovviamente è possibile risolvere con una verifica oppure reinstallando il gioco se no disinstalla Epic Games e reinstalla Epic Games quindi in questo caso vado direttamente sulla schedina esegui scrivo qua sopra per 100 per fare il per cento devi schiacciare il tasto shift più 5 scrivi app data è un altro per cento entriamo così nella cartella di app data va in app data local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite game elimina così questa cartella di Fortnite game elimina anche la cartella di Epic Games Launcher una volta fatto prima di eliminare la cartella di Epic Games Launcher chiudi Epic Games vai chiudi ovviamente devi accedere di nuovo con il tuo account quindi fai il login entri così nella libreria e prova ad accedere prova ad avviare Fortnite una volta fatto entriamo così nei tre puntini vai direttamente su gestisci opzione di lancio modalità di rendering io l'avvio sempre con DirectX 11 quindi scrivi trattino D3D11 opzione di lancio schiaccia qua sopra la spunta e poi facciamo la verifica ai file e verifichiamo così Fortnite grazie 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 Lo disinstalli e lo reinstalli di nuovo. Se non funziona devi reinstallare di nuovo Epic Games. Quindi vado direttamente su Gestisci. Entro così nella cartella. Fortnite Game. La cartella degli SentiCit c'è. La cartella dell'Actix 12 c'è. Le applicazioni ci sono. Fortnite Client. Fortnite Launcher. Mostra a tre opzioni. Proprietà. Compatibilità. Modifica impostazioni. TPA elevati. Metti la spunta qua sopra. Prima i digitali. Installi così il certificato. Per Epic Games. Visualizza certificato. Installa certificato. Facciamo avanti. E facciamo fine. Qualsiasi cosa per risolvere l'errore. Se no prova a chiedere assistenza. A Epic Games. Andando su impostazioni. Assistenza. O risolvi i problemi. E ora provo un attimo ad avviare il gioco. In esecuzione. In inizializzazione in corso. E si sta caricando. Inizializzazione in corso. Il gioco è andato. Se no dovesse andare puoi semplicemente inserire Fortnite. La cartella di Fortnite. Tipo andando su Windows Defender. Protezione da virus e minacce. Gestisci impostazioni. Esclosioni. Aggiungi o rimuovi. Esclosioni. Inserisci qua dentro la cartella di Fortnite. Così facendo Windows Defender. Non cancellerà alcuni file. O bloccherà la cartella di Fortnite. Aggiungi un'esclosione. Metti la cartella. E vai a mettere la cartella di Fortnite. Direziona la cartella. Io ho messo anche la cartella dell'Easy Antichit. Per non avere problemi. E basta. Ed eccolo qua. Fortnite è andato. Senza nessun problema. Quindi per altri problemi ancora. Tu puoi commentare sotto al video. Fammi sapere quali altri problemi riscontri. Cercherò di realizzare altre guide. Ti consiglio di guardare anche la playlist. Con tutte quelle guide che ho realizzato su Fortnite. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi. Ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.